ed eccoci qui appena finita la partita cubio che perde cubio che perde purtroppo primo tempo giocata alla grande secondo tempo giocato da merda che questo tocca di più purtroppo primo tempo giocato benissimo tra l'altro siamo avuto anche un'occasione per fare il 2 a 0 sprecata amaramente da silvestro purtroppo potevamo fare davvero 2 a 0 magari anche chiude la partita del tutto invece nel secondo tempo espulso decencio mi pare si chiama e da lì in poi il gubbio c'è letteralmente addormentato sugli allori invece in serie ci purtroppo non te lo puoi permettere è infatti una 1 e una 2 peccato perché onestamente oggi guardando soprattutto il primo tempo non ho visto tutta la differenza tra noi e loro però se dopo lasci un tempo libero agli avversari è ovvio che sfruttano l'occasione tra l'altro anche in 10 quindi c'è da fare i complimenti da loro e meno a noi altri perché capisco perché nei secondi tempi porca troia ci adormentamo come come degli allocchi onestamente perché oggi onestamente come stavamo a giocare nel primo tempo sembra benissimamente vinci porca puttana e invece purtroppo no che pappa onestamente sconfitta ci l'ho fatto qua circa la vittoria altro che sconfitta e invece come dico sempre bisogna giocare bene tutti i due tempi perché sennò non basta sempre un tempo solo per per vincere partite purtroppo soprattutto intercalcio attuale e niente migliori in campo forse malaccari il capitano pasquato che ha fatto gol che è una specie nemica italiana della roma fa gol assist è sempre il man of the match uno dei migliori in campo sicuramente oggi non tanto bene cucchietti secondo me se i gol qualcosina in più potrà fa onestamente però va bene cosa buona oggi hanno segnato nocciolini che di solito quando vede il gubbio come vede il rosso dei tori onestamente come vede il tappetino del pamplona però fatto sta che loro 10 hanno vinto gli altri 11 ce l'abbiamo letteralmente in quel posto bellissimo lo stendart si lo stendart lo striscione che hanno messo la vostra gente ma non mi abbandona forza gubbio lotta ancora c'è scritto e infatti si e vede sto stendart sto striscione mi fa davvero commuovere tra l'altro vedo il posto dove metto sempre con un amico mio è davvero molto commuovente la cosa vedo loro ha dato una sta cazzo le normalità che mi sono rotto le palle onestamente mamma mia mi sono davvero rotto le scatole comunque come dicevo prima migliori il campo malaccari forse decido questo potrà fare un pochetto di più perché tu lì sul gol forse potrà far benissimo il 2 a 0 peccato cucchietti secondo me tra i peggiori pellegrini per me quando entra come se fossimo 10 me ne ispira niente mi sembra il perez della situazione il carles perez proprio un giocatore che mi sa niente quindi secondo me forse a questo ottimo mercato perché secondo me il dubbio ha fatto sta facendo davvero un ottimo mercato ancora mancano un giorno anzi sì domani finisce calciomercato hanno preso fedato hanno preso amlili dal bari ottimi colpi questi poi serena altro ottimo colpo e quindi per me hanno hanno fatto davvero ottimo calciomercato forse manca una punta secondo me per affiancare a gomez una punta proprio di top punta punta che ci serve secondo perché solo gomez secondo me da solo è come se infatti la roma deve essere zego secondo me ne che oppure mai oralla da solo un po le fa niente secondo me serve sempre una punta di riserva una punta che stia a fianco e faccia la punta buona proprio e quindi niente oggi aveva un'altra sconfitta domani gioca la roma e speriamo che sarà torna la vittoria ma soprattutto con l'arezzo prossima partita che sarà mercoledì bisogna assolutamente vincere perché con certi avversari bisogna assolutamente vincere e niente questo è tutto appuntamento alla prossima e sempre 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 forza gubbio grazie a tutti